buongiorno bentrovati al tg 2000 di mezzogiorno subito i temi oggi in primo piano dopo la giornata per il clima politica in campo dal buono mobilità per la macchina i nuovi bus pubblici la prossima sarà una settimana di scadenze lunedì manovra economica giovedì us culture per il cardinal bassetti e più dello us soli perché frutto di integrazione lotta alla droga palermo 18 arrestati in un maxi blitz nel borgo vecchio famiglie intere coinvolte nella rete i padri spacciavano le madri tenevano la contabilità e i bambini usati come corrieri nei mondiali di atletica che stasera decretano l'uomo più veloce del pianeta nella finale 100 metri il gesto che commuove un atleta africano sorregge il rivale dei caraibi in difficoltà e il traguardo lo tagliano insieme questi titoli ma in apertura la politica l'indomani della manifestazione per il clima esecutivo pronto a varare già la prossima settimana un decreto legge emergenza climatica lunedì la manovra economica in consiglio dei ministri mentre riparte il dibattito alla camera sullo us culture la cittadinanza si costruisca dice il cardinal bassetti leonardo possati salvare il futuro milioni di persone ieri hanno sfilato nelle principali città del pianeta per dire basta alle politiche contro l'ambiente e invocare un radicale cambio di rotta da roma a palermo un milione di italiani sono scesi in strada lungo tutta la penisola e così per ascoltarle il governo il 3 ottobre prossimo porterà in consiglio dei ministri il decreto sul clima un testo ricco di contenuti che va dal bonus da 1500 euro per rottamare un euro 4 entro il 2021 agli incentivi per rinunciare alla vettura e utilizzare bus e metro tutte misure da attuare se vi sono i soldi per questo l'esecutivo punta sul documento economico finanziario la cui nota di aggiornamento arriverà in consiglio dei ministri lunedì tra le priorità c'è la disattivazione delle clausole di salvaguardia dell'iva è un impegno robusto è un capitolo importante della nuova manovra economica stiamo parlando di 23 miliardi il ministro dell'economia gualtieri punta a mantenere il deficit al 2,1 per cento e arriva la stretta sull'utilizzo del contante riparte poi alla camera la discussione sullo ius culture con la modifica alla legge di cittadinanza i ragazzi sotto i 12 anni potranno diventare cittadini italiani appena completato un ciclo di studi dura la replica delle opposizioni che annunciano barricate in parlamento una novità invece accolta favorevolmente dai vescovi italiani io parlo sempre più che di ius e soli di ius culture perché la cittadinanza va costruita è frutto di un'integrazione di un accompagnamento e il premier conte è intervenuto anche sul tema del fine vita durante la sua visita nel brindisino sì all'obiezione di coscienza per i medici ha detto il presidente del consiglio che poi ha aggiunto credo che ci sia un diritto alla vita ma è da dubitare ci sia un diritto alla morte non voglio far pesare la mia opinione personale da giurista e da cattolico ha concluso conte ma mentre esiste un diritto a scegliere le mie cure è invece un po dubbio ha concluso scegliere di essere avviato alla morte con la cronaca a palermo ora per questa maxi operazione antidroga blitz nel rione borgo vecchio 18 arresti smantellata una rete di spaccio che coinvolgeva pensate famiglie intere con i figli usati come corrieri della droga e le donne da ragionieri federico plotti fiumi di droga nel cuore di palermo a borgo vecchio a due passi dal porto e da piazza castelnuovo in strada a spacciare chili di ascisce marijuana anche minorenni sotto lo sguardo di cosa nostra all'alba di questa mattina l'epilogo dopo due anni di indagini condotte dalla polizia del capoluogo siciliano 18 persone sono state arrestate su 23 misure cautelari eseguite le manette sono scattate anche per la sorella di un collaboratore di giustizia un'organizzazione ben strutturata una rete capillare dove le donne avevano un ruolo di rilievo erano le contabili a loro spettava tenere la cassa organizzare e tenere il conto delle dosi da vendere in strada e al primo sentore di un controllo di polizia imminente avevano anche il compito di far sparire tutta la droga conservata nelle loro abitazioni spesso nei vicoli e nelle stradine di borgo vecchio a spacciare c'erano anche baby pusher figli e nipoti dei componenti dell'organizzazione tutti minorenni ora all'estero seggi aperti stamattina alle 7 in afghanistan al voto per le presidenziali in un clima però di paura esplosioni feriti si vota fino a mezzogiorno e mezza ora italiana marco bergamaschi hanno iniziato a votare stamani gli afghani chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente circa 9 milioni e 600 mila i votanti e quasi 5 mila i seggi a sfidarsi alle urne il presidente uscente asaf ghani che punta al secondo mandato e il rivale capo dell'esecutivo abdulla abdulla che hanno votato stamani nella capitale kabul un voto che si svolge sotto il timore di tre problemi le possibili frodi elettorali la stensione gli attentati per garantire la sicurezza il ministero dell'interno ha annunciato di aver schierato 72 mila uomini e vietato l'accesso alla capitale a tutti i camion e i furgoni per paura di autobombe ma già si contano vari attentati nel paese con almeno due vittime 17 feriti 15 dei quali coinvolti nell'esplosione di una bomba kandahar presso un seggio elettorale le elezioni si svolgono mentre i colloqui di pace tra americani e talebani sono in una fase di stallo dopo il dietro fronte annunciato ad inizio settembre da donald trump e con i talebani che hanno compiuto numerosi attentati prima della consultazione è aumentato gli avvertimenti nei confronti degli afghani per dissuaderli dal voto minacciando di prendere di mira uffici e seggi veniamo adesso al cosiddetto ucraina gate la vicenda legata alla telefonata in cui il presidente americano trump chiese favore all'omologo zalensky cade la prima testa dopo le rivelazioni di 1007 talpa su quella telefonata perché si è dimesso l'inviato speciale americano in ucraina Kurt Volker lo riferisce la cnn fu Volker citato nella denuncia a mettere in contatto l'avvocato personale del tai con Rudy Giuliani con un alto collaboratore del leader ucraino predisponendo di fatto il terreno per quella telefonata inoltre dopo lo scandalo la casa bianca ha limitato l'accesso alle telefonate del presidente americano sia con il leader russo vladimir putin che con il principe ereditario saudita ci riporta in italia la mostra allestita in piazza duomo a milano per il banco alimentare sono 30 anni che al servizio del prossimo fino a stasera alle 20 si potrà ripercorrere la storia di questa rete impegnata contro lo spreco di cibo luciano piscaglia si intitola compagni di banco la mostra allestita per celebrare i 30 anni di vita del banco alimentare ed è stata allestita in piazza duomo a milano a conclusione di un giro d'italia che ha toccato altre 30 città del nostro paese un percorso in cui si possono ammirare gli scatti in bianco e nero di un grande fotografo Enrico Genovesi accanto a foto amatoriali e a pannelli che raccontano la storia e la vita quotidiana del banco alimentare ci sono quattro parole fondamentalmente che caratterizzano la mostra e sono incontro, recupero, persona e povertà l'incontro è un incontro fra persone, è l'incontro che ha dato vita al banco l'incontro che facciamo quotidianamente con le persone delle strutture caritative l'incontro con i poveri e l'incontro con le aziende da cui abbiamo la possibilità di recuperare la mostra è anche l'occasione per tenere destra l'attenzione sul dramma della povertà nel nostro paese dal 1989 il banco recupera le eccedenze della filiera agroalimentare e le ridistribuisce a 7500 organizzazioni caritative che aiutano 1.500.000 persone in difficoltà ma in Italia ci sono ancora 5 milioni di poveri e tra questi tante famiglie quali che io chiamo i poveri dalla porta accanto che uno non sospetterebbe mai che hanno bisogno ma hanno bisogno e continuiamo a parlare di sociale con la terza edizione in corso a Benevento di Porti di Terra il festival che tenta di far dialogare antropologia ed economia dai territori abbandonati alle nuove iniziative imprenditoriali però al servizio dell'uomo sta seguendo lì i lavori Clara Iatosti, vediamo nell'immaginario comune Ventotene è l'incipit della storia dell'Europa Unita l'isola dove Spinelli e i suoi amici descrissero un sogno in un manifesto intellettuale ma Ventotene è anche il nome di questo camper che partito da Benevento ad ottobre 2018 sta percorrendo l'Italia porta in giro un'altra utopia a incontrare le comunità dei piccoli comuni del bel paese che oggi invecchiano ma che possono scoprirsi aperti al futuro nell'accoglienza le famiglie di rifugiati ed esuli possono così scegliere di tornare ad essere comunità vive dove le scuole riaprono, gli antichi mestieri non si perdono e i ragazzi del luogo, insegnanti, psicologi o commercianti non sono costretti ad andare via Ventotene ha operato una rivoluzione perché essenzialmente è uno strumento di comunicazione da sempre l'uomo ha raggiunto altre persone lontane costruendo strade poi con i mezzi di comunicazione, i social, i media tradizionali Ventotene ha fatto una scommessa, ha deciso di abbandonare i luoghi virtuali per tornare nei luoghi reali, nelle piazze, ad incontrare le persone dal vero guardandone negli occhi e parlando con loro potremmo dire che la rivoluzione di Ventotene è innanzitutto comunicazione e dialogo a febbraio 2017 la Caritas di Benevento ha emanato il manifesto per una rete di piccoli comuni del welcome oggi è animato dal Consorzio Sali della Terra ed in particolare dai quattro di Ventotene Angelo, Gabriella, Francesco e Gianpaolo Adesso le parole del Papa, stamattina ricevendo in udienza in Vaticano i rappresentanti della Federazione Ginnastica d'Italia in occasione dei 150 anni di istituzione Ai nostri giorni, ha detto Francesco, il sistema dello sport appare condizionato spesso da logiche di profitto Possiate vivere lo sport con lealtà, sano spirito agonistico e senza perdere l'ispirazione amatoriale Ha concluso, lo vedete, Bergoglio A proposito di sport e di gesti di sano agonismo Parliamo dei mondiali di atletica in corso in Qatar Stasera la finale 100 metri deciderà chi è l'uomo più veloce del pianeta in gara Anche due italiani e ieri sera ha commosso il gesto sportivo Adesso lo vediamo del corridore africano che sorregge il rivale dei Caraibi Il traguardo però lo tagliano insieme Marco Burini Correre, saltare, lanciare, marciare I gesti più elementari dell'essere umano li troviamo nell'atletica La regina delle discipline sportive Dove la competizione non esclude la compassione quando l'avversario è in difficoltà È successo ieri sera in mondiali di Doha in Qatar Nelle retrovie di una batteria dei 5000 Brahim Asun Cardabo della Guinea-Bissau Vede barcollare vistosamente Jonathan Busby di Arruba Isoletta dei Caraibi di cui è il solo rappresentante Gli si affianca e lo sorregge fino al traguardo Che tagliano abbracciati Busby viene poi squalificato per aiuto irregolare Ma intanto la scena ha entusiasmato gli spettatori del Califa International Stadium Nella calda notte del deserto arabico È la prima volta che i mondiali di atletica si tengono in Medio Oriente Per forza, con il caldo che fa Ma il Qatar ha messo sul piatto i soldi, tanti soldi E alla fine ha ottenuto la manifestazione E fra tre anni il piatto forte I mondiali di calcio, che però hanno già dato molti problemi Fra tangenti e operai sfruttati Ma adesso è il turno degli atleti E delle atlete Anzitutto quelle della maratona Che si è corsa a mezzanotte Ma in condizioni comunque difficili Con molte atlete disidratate Un terzo non è arrivato in fondo Ha vinto una keniana E non è una novità Mentre una bella novità L'ingresso in semifinale dei 100 metri Di ben due sprinter di casa nostra Marcel Jacobs Con un ottimo 10.07 in progressione E Filippo Tortu Con 10 secondi e 20 centesimi Due lampi azzurri nel primo mondiale Senza il lampo in persona Usain Bolt Stasera prima le semifinali E poi la finale Meno di 10 secondi Per decidere chi sarà L'uomo più veloce del pianeta E che vinca il migliore Ma con lealtà Adesso un po' di musica Si chiama Courage Cioè Coraggio Il nuovo tour di Celine Dion Al Via Novembre La cantante canadese Torna a cantare dal vivo Dopo una catena di drammi familiari E attesa anche in Italia Silvio Vitelli Così tante persone Sono venute a vederci stasera E ora pensiamo Che sia arrivato il momento Per noi Di andare da loro Con queste parole Lo scorso aprile Annunciava il suo nuovo tour mondiale Celine Dion Vittima negli ultimi anni Di una duplice tragedia familiare Che avrebbe messo a dura prova chiunque Tre anni fa La morte del suo amatissimo marito René Col quale ha avuto tre figli Cancro alla gola La stessa malattia Che appena due giorni dopo Ha portato via anche il fratello di Celine Ecco allora il titolo Del suo nuovo album In uscita il 15 novembre prossimo Courage Che significa coraggio Lo stesso titolo del tour Che toccherà anche l'Italia E al quale sono appena state aggiunte nuove date Prima di passare alla sua altra vita René ha voluto che tornassi sul palco La vita mi ha dato gli strumenti Per andare avanti Per trovare il coraggio Questa è la mia vita Il mio coraggio Sono più che pronta Sono più che pronta E voglio dimostrarlo Non vi manchi mai il coraggio Prossima edizione alle 18.30 Grazie per l'attenzione Arrivederci Arrivederci